Cristiano Ronaldo la Juventus, realtà o finzione? Devo dire la verità, in questi due o tre giorni mi sono divertito tantissimo sui miei social network e per questo ti invito a passare qui sotto in descrizione, andare a cercare il mio profilo Instagram e aggiungermi subito e commentare l'ultima foto con un hashtag LucaVengoDaYouTube. E tra l'altro ho giocato molto anche con voi che sui profili continuavate a chiedermi un po' di delucidazioni. Luca, secondo te cosa ne pensi? Sì, devo dire la verità, mi sono divertito e ho cercato sempre di mantenere un low profile. Anzi, spesso denigravo chi provava a dirmi guarda che potrebbe essere vero Luca Credici, ma parliamoci chiaro, stiamo parlando di una trattativa ai limiti dell'impossibile e tra l'altro è arrivata la smentita di Marotta anche se in queste ultime ore sta girando un video in cui dice non parlo, non parlo, non parlo. Ma guardiamoci bene in faccia, questo è il gioco delle parti. Beppe smentì categoricamente anche Igoe in salvo, puoi pagare la sua clausola solamente qualche ora dopo. Ognuno di noi ha un ruolo in questo globo terraqueo, Marotta deve organizzare e programmare le Juventus del futuro e io mi diverto a parlare di fronte ai telefoni. Per questo, fino a quando le situazioni non sono chiare e delineate, è sempre meglio non parlare o comunque astenersi, sempre, comunque fino alla morte. Ora fatevi il viaggio, io da tifoso bianconero mi sarei dovuto esporre e dire sì, Cristiano Ronaldo alla Juve è possibile con un altissimo rischio di fallimento dell'operazione, perché stiamo parlando comunque, ripeto, di un'operazione ai limiti dell'impossibile con tutte le conseguenze del caso? No, grazie. Ricordate sconcerti? Alla Juventus Cristiano Ronaldo farebbe panchina o Pistocchi? Cerci mi ricorda Robben. Ecco, sono passate la storia con quei tormentoni e per sempre rimarranno lì. Io non voglio sicuramente diventare un meme vivente. Ora capite perché è sempre doveroso andarci piano, è stata una presa di posizione anche per salvaguardare la mia immagine. Però adesso voglio essere sincero e raccontarvi tutta la verità di quello che penso che sia la fare Ronaldo e Juve. Difidate dai tanti video che sono visti in queste ultime ore di persone che stanno continuando a fare video di calcio mercato, anche per annunciare il ritorno al calcio giocato di Sossi Aruta. Qua andremo a sviscerare con un'analisi logica, competente e anche finanziaria. Ma tanto questi video non li guarderà nessuno, come sta accadendo spesso su questo canale, ma vabbè. Tanto partiamo da un punto carne. Cristiano Ronaldo, il prossimo anno, non dovrebbe giocare a Madrid. L'ha già detto pubblicamente alla fine dell'ultima finale di Champions, non vuole più continuare l'avventura a Madrid semplicemente perché dopo nove anni sono venuti meno gli stimoli sportivi e credo che questa parola verrà rispettata. E allora dove andrà Cristiano per mantenere elevato il livello di competizione? Al momento mi vengono in mente solamente alcune squadre che sono Barcellona, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United, PSG e Juventus. Ovviamente escludendo le spagnole per ovvi motivi logistici rimangono solamente le tre inglese, il PSG e la Juve. Questa selezione è dettata a priori di squadre che sono al top nei loro rispettivi campionati e che ogni anno investono per essere al top anche in Europa. E Cristiano Ronaldo ovviamente gli ultimi anni di carriera li vuole giocare ancora al top e vuole provare a vincere ancora la Champions. Di queste mi sento di escludere anche Chelsea e Manchester City perché comunque Ronaldo non ha bisogno di andare a prendere tutti quei soldi in più che potrebbero offrirgli questa società inglese perché ovviamente ha lasciato un ottimo ricordo alla Manchester United e Cristiano Ronaldo è un giocatore diverso da tutti gli altri. Di soldi non ne ha bisogno e delle due prende qualcosina anche in meno ma lascia intatto il ricordo bellissimo che ha lasciato nella mente dei Red Devils. Attenzione perché da qualche giorno sta girando questa voce secondo la quale la clausola di un miliardo di Cristiano Ronaldo è stata abbassata. 120 milioni di euro che potrebbe non valere per le inglesi quindi togliamo anche il Manchester United oltre al discorso logico che avevamo fatto per il Chelsea City e potrebbe non valere per le spagnole ma vabbè quelle le avevano già escluse e potrebbe non valere per il PSG perché direte voi perché è una cosa che non ci sta allora per forza rimane sulla Juve e invece no e invece no ovviamente tutte le squadre citate sono squadre ricchissime con uno sceicco dietro non come la Juventus sono squadre ricche 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 petrol dollari dollari che arrivano da ogni parte insomma c'è sempre qualcuno che ci butta dentro capitale e allora il Real Madrid giustamente dice se posso vendere a una di queste squadre 120 milioni non mi bastano Cristiano se vuoi andare da qualche altra parte non c'è problema puoi andare tranquillamente in quel caso dovrebbero sborsare il famoso miliardo di clausola che è sicuramente più difficile da pagare rispetto a 120 milioni non ci sono ufficialità per questa notizia quindi prendetela sempre con le pinze eppure il discorso fila liscio come l'olio chi rimane in questo caso solamente la Juve ecco il perché di tante chiacchiere in questi giorni in realtà si potrebbe inserire anche il Bayern Monaco ma storicamente il Bayern non ha mai speso queste cifre per un giocatore mai ora magari dirò una cosa molto impopolare per i miei rivali e dirò una cosa molto popolare per i miei fratelli bianconeri la Juventus negli ultimi anni è riuscita a costruire un'immagine europea veramente vincente come aveva una volta il tutto nasce dagli uffici dall'organizzazione di Agnelli di Marotta di Nedved e tutto viene convertito in campo grazie agli ordini di Allegri la Juve è stata proiettata prima a Berlino e poi a Cardiff perdendo entrambe le volte quindi ancora il progetto di vincente non è completato ovviamente non è mai vinto non ripeterò le imprese di Allegri perché l'ho fatto in un video uscito poco tempo fa nel canale che vi lascio qui sopra nelle schede ma sicuramente la Juventus all'estero ad oggi è vista come una squadra d'elite questo non vuol dire che Cristiano Ronaldo verrà sicuramente alla Juventus perché ovviamente non è vero però sicuramente qualcosa è successo ci sono stati troppi spifferi e da troppe parti troppe conferme, troppe chiacchiere, troppe fonti estere che si sono appassionati alla cosa insomma una chiacchierata come minimo o un interessamento c'è stato certo voi potreste vedere tutte queste come semplici parole per questo che ho deciso di portare delle prove per sostenere la mia tesi io di Cristiano Ronaldo Bianconero in realtà avevo già sentito parlare due settimane fa da una fonte super affidabile è una figura immersa a 360 gradi nell'ambiente Juventus e lo so, detto così potrebbe sembrare il classico cugino che lavora la Juve e quindi ti ha fatto la soffiata bla 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 ma vi posso assicurare che non è assolutamente così ora vi mostrerò le conversazioni che ho avuto con un mio amico martedì 3 luglio e andrò a censurare il nome della persona di cui vi sto parlando proprio perché se non dovesse realizzarsi Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe andarci a perdere di credibilità e non è il caso la prima parte come vedete è indirizzata al discorso del non potermi esporre troppo quindi andiamo avanti ok, questo però verrà fuori dopo concentriamoci solamente ed esclusivamente sul discorso economico come vedete parlo di un affare a 360 milioni di euro 120 per la clausola e i rimanenti 240 sono di ingaggio perché 30 milioni all'anno sono 60 milioni lordi quindi 6 per 4 fa 24 concludo dicendo che Ronaldo è vecchio perché comunque un affare del genere è illogico per qualsiasi calciatore ed essere umano sostanzialmente è ancora più illogico per un classe 85 rimaniamo sul discorso economico perché la Juventus da sola non potrebbe mai essere in grado di pagare queste cifre a Cristiano Ronaldo impossibile e Fiat non potrebbe pagare di sua tasca Cristiano Ronaldo come calciatore della Juventus potrebbe pagarlo come uomo immagine quindi si potrebbe dire Juve temene dai 20 e gli altri 10 Cristiano non te li dà la Juve ma te li dà Fiat ma perché diventerai uomo immagine che è una cosa diversa perché se no non si rispetta il fair play finanziario in realtà questa operazione è molto simile a quella di Wayne di due anni fa adesso vado anche a spiegarvi il perché 90 milioni di clausola 7 milioni e mezzo di ingaggio per 5 anni di contratto ancora una volta facile fare il conto perché 15 per 5 15 perché è il doppio di 7 e mezzo per 5 fa 75 a cui aggiungiamo la clausola di 90 andiamo a 165 milioni Gonzalo ha ancora 3 anni di contratto con la Juve il che significa che è costato 30 milioni di euro in queste due stagioni di ingaggio l'ammortamento del cartellino invece è ottimo perché 90 diviso 5 fa 18 quindi significa che la Juventus potrebbe cedere i Wayne andando a generare una plusvalenza della totalità paritaria del cartellino pari a 54 milioni di euro 18 per 2 fa infatti 36 tolti dai 90 iniziali fa appunto 54 quindi questo è il costo del cartellino per cui la Juventus non andrebbe in perdita 30 di ingaggio, 36 di cartellino ecco qua che abbiamo 66 milioni di euro che sono stati i soldi che sono costati alla Juventus per avere i Wayne in queste due stagioni all'inizio invece parlavamo di 165 adesso parliamo di 66 ci sono 99 milioni di euro che ballano nei prossimi anni i Wayne andrà a costare effettivamente 165 se farà altre tre stagioni alla Juventus se invece verrà ceduto in questa stagione ecco che magicamente 99 milioni di euro vengono via dal bilancio juventino stesso discorso di Ronaldo 120 milioni di euro potrebbero essere assorbiti nei prossimi due anni di cartellino anche se poi sarà difficile capire di poter guadagnare nuovamente con il cartellino del portoghese sarebbe più facile poi liberarlo a zero per togliere lo stipendio dal bilancio infatti per la Juventus non sarebbe un problema tirare fuori 120 milioni per il cartellino però lo stipendio è costicchia ipotizziamo una permanenza in bianco nero di Ronaldo come fatto prima per due stagioni 120 diviso 2 fa 60 questa sarebbe la cifra del valore del cartellino di Ronaldo nel 2020 60 milioni di euro 240 diviso 2 fa 120 cioè la stessa cifra che verrà pagata nello stesso anno di ingaggio a Ronaldo 60 più 120 fa 180 questi sarebbero i soldi che dovrebbe sborsare la Juve per due stagioni di Cristiano Ronaldo con ancora altri due anni da giocare attenzione però sono gli ultimi due anni probabilmente ad altissimi livelli di Cristiano Ronaldo e sono ben distanti dal miliardo dal mezzo miliardo di cui si parlava all'inizio se inseriamo quindi il contesto sponsor di uomo immagine di Fiat o di Chrysler ecco che tutto diventa molto più facile senza contare che cedendo Higuain andremo a liberare il suo ingaggio dal bilancio della Juventus ecco sicuramente senza cessioni pesanti come Higuain questa cosa non si potrebbe attuare ma non tanto per il cartellino ma per gli ingaggi quindi Higuain è il giocatore che prende di più il rosa ed è il giocatore che andrà ceduto in questa sessione di mercato come detto prima la Juventus ha dimostrato in Europa di essere al top ma non al top come Real Madrid-Barcellona e Bayern-Monaco le ultime due vanno in termittenza c'è l'anno in cui sono imbattibili e fenomenali e gli altri anni in cui sono abbastanza discontinui in Real invece nelle ultime tre stagioni non ha praticamente mai sbagliato l'unica squadra che è stata in grado di mettere in difficoltà è stata la Juve quest'anno al ritorno al Bernabeu quando vinceva tra zero quando poi ha preso il rigore proprio di Ronaldo all'ultimo minuto invece negli ultimi quattro l'unica squadra in grado di eliminarla dalla Champions è stata proprio la Juve e quindi ovvio considerare che Cristiano Ronaldo possa perlomeno prendere in considerazione la Juventus come prossima destinazione questa invece è la conclusione del tutto lo dico tranquillamente non sarei stupito di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve la prossima stagione sicuramente continuerò a crederci mantenendo comunque il low profile come detto prima per convenienza come avete visto abbiamo seguito dei semplicissimi laggioramenti logici senza mai forzare il discorso o almeno non mi è sembrato fatelo sapere qui sotto nei commenti se è successo sportivamente credo che anche Cristiano possa essere affascinato dall'idea di portare a Torino quella coppa che ormai manca davvero da troppo tempo cambiare per trovare nuovi stimoli non è mai un male anche se ormai credo che Cristiano possa essere considerato una bandiera blanca pure come abbiamo visto anche di recente le storie non sono sempre a lieto fine Bonucci lo scorso anno ha salutato la Juve ed è andato al Milan forse anche per colpa dei gol di Ronaldo contro la Juve a Cardiff la pazienza ormai per Leo era finita l'ambiente non era neanche più tanto bello e quindi ha deciso di fare questa scelta ha lasciato la squadra più forte per una squadra meno forte e in questo momento dico la mia sicuramente non è soddisfatto della scelta fatta stessa cosa che sta per fare Ronaldo lascia una squadra più forte per una meno forte senza alcun diritto senza alcuna certezza di fare la scelta giusta certo perché l'acquisto di Ronaldo non sarebbe mica sinonimo di Champions League matematica per la Juventus per l'amore del signore se qualcuno sta pensando questo che vada a farsi un giro c'è il sole deve respirare aria fresca lo stiamo vedendo in questi mondiali le sorprese sono dietro l'angolo il calcio è bello soprattutto per questo la Juve sta sicuramente cercando di alzare la sticella e un colpo del genere la metterebbe davanti ad ogni club nel mondo il fatturato infatti si alza anche in questo modo andando a comprare i giocatori più famosi infatti Cristiano Ronaldo è il calciatore più famoso e seguito al mondo e forse anche uno dei personaggi pubblici più seguiti sui social quindi non solo sportivamente ma anche sotto il profilo social marketing sarebbe un affare incredibile ecco economicamente molto meno qua lo farebbe Real Madrid perché va a cedere un 33enne per 100 milioni di euro e si libera un ingaggio potentissimo sotto il profilo economico l'affare del Real ancora una volta è bene ribadirlo Cristiano Ronaldo non è della Juventus non è concluso niente ma pensare che possa approdare il mio angonero non è assolutamente da folli probabilmente forse non lo sarà nemmeno mai ma io sto continuando a incrociare le dita e vi giuro che non le staccano così finché non lo vedo atterrare a caselle poi fatemi sapere se il mio discorso ha senso oppure no ha sensio un mi piace un commentino come al solito un follow su Instagram un messaggio privato tanto sono molto attivo rispondo praticamente a tutti dai ragazzi sarebbe bellissimo vedere Cristiano Ronaldo pensare a mamma mia sto male solo a pensarci e non lo vedo